ciao siamo di nuovo al veggie cooking show e oggi abbiamo un'altra ricetta preparata dalla nostra amica antonella detta pasticciona vegana grazie julia oggi prepareremo la crema di nocciole buonissima e molto semplice da fare è amatissima da tutti grandi e piccini vediamo gli ingredienti cioccolata extra fondente sciolta bagnomaria granella di nocciola zucchero di canna integrale cacao amaro olio extravergine d'oliva e latte di soia adesso versiamo gli ingredienti nel frullatore partiamo dalla granella di nocciola lo zucchero di canna il cacao prima l'olio e prima la cioccolata si la cioccolata extra fondente fatta a bagnomaria a bagnomaria si si l'olio billy vorrebbe provare tutto il dolce purtroppo ma non può versiamo un po di latte magari in una seconda parte versiamo l'altra giulia se mi aiuti a chiudere il frullatore ok grazie possiamo aggiungere il latte molto lentamente per decidere la consistenza che vogliamo della nostra crema alla nocciola per rendere la nostra crema di nocciola molto più fine quindi molto più spalmabile possiamo utilizzare a posto di un frullatore tradizionale un robot da cucina molto più potente o uno stesso frullatore molto più potente giulia che ne dice adesso di provarla volentieri buonissimo grazie a tutti